Una piccola, veloce e facile tappa di Paoli Latino è questa. Ci troviamo al cospetto del fantastico nuraghe apparentemente monotorre, nuraghe ortei. Dico apparentemente perché è molto probabile che non lo sia, perché diverse fonti parlano di un nuraghe praticamente con due torri annesse. Proviamo ad entrare da questo bellissimo ingresso dal quale esce un'aria freschissima. Notiamo subito il finestrino architravato, fantastico. Dovrebbe essere di basalto. Questo nuraghe è molto carino, molto particolare perché ha tre belle nicchie, ma proprio belle e poderose. Ve le facciamo vedere subito. Ok, e allora siamo dentro. Grazie per le luci. Guardate che meraviglia questo piccolo andito sopra di noi. E notiamo la scala a sinistra. Che bella! Wow, ragazzi! È pieno di ragni, come ho detto. Quindi state attenti alle ragnatele, poverino. Ci avranno messo un po' di tempo a costruirle. E quindi cerchiamo di non disturbarle. La nicchia sulla destra, un'altra. Guardate che bello! E io raramente ho visto delle nicchioni, chiamiamole così, profonde e così imponenti e importanti. Entriamo nel mastio centrale perché tutti quelli che vengono al nuraghe ortei parlano appunto di un mastio centrale conservato benissimo. Sulla sinistra, eccola qua, una bella nicchia. Poi guardate che meraviglia questo particolare. Della nicchia con quella che appare adesso una finestra. Ora io non so se da lì manchi qualcosa per il quale appunto si è creata quella nicchia oppure i nostri antenati nuragici, nuragici per il periodo, ok? Stiamo parlando di sardi. L'abbiano voluto fare così. Un'altra nicchia poderosa, bellissima, profonda. Grazie per le luci Monica. A destra. Che bello! Che bello! Allora, esploreremo poco a poco la nicchia centrale. Quella praticamente è di fronte all'ingresso principale. Io entro, vediamo un po'. Che cosa succede? Se entro e porto lo stabilizzatore verso l'alto. Guardate che meraviglia! Strepitoso, strepitoso. Ora io mi giro la telecamerina così vi faccio vedere l'ingresso da qui. Ok, mi giro, esco e guardate che bello! Guardate che belle queste immagini! La volta completamente intatta, non manca niente. Strepitoso. Guardate che bello! Di nuovo, appunto, le immagini dall'interno verso l'esterno. Mi defilo un attimo perché ne vale la pena. In tutto il suo splendore vi faccio vedere questo meraviglioso nuraghe urtei in territorio di Paoli Latino. Veloce, veloce! Qualche fotogramma per quanto riguarda la scala, che però non penso percorrerò perché... Anzi, forse si vede un po'. Vado un po' qua. Ecco qua, vedete? E poi si va al secondo piano. Monica, secondo me dovrebbe venire perché ne vale la pena. Una nicchia qui, il secondo piano lì, e poi concludo le immagini. Vediamo un po' se ci riesco. Forse sì. Ecco qua. E qui siamo al secondo piano, non andiamo oltre. Vi faccio vedere la scala al contrario. Guardate che meraviglia! Strepitoso, strepitoso. Allora, Paoli Latino, Nuraghe Ortei. Ciao a tutti!